I tuoi parametri di talento potrebbero essere diversi da quello che in realtà tu percepisci. Il talento va nutrito, va alimentato, per cui tu potresti riscoprirti talentuosa in una fase dell'apprendimento e in specifici segmenti della tua musicalità. Immagina che tu cominci a praticare blues dopo 6-8 mesi e magari ti rendi conto che tu hai un'attitudine più cantautorale, per cui è un percorso quello del talento che va annaffiato e che va nutrito giorno per giorno.